Sì, certamente, innanzitutto vi ringrazio per l'organizzazione di questo meeting che è sicuramente importante, tanto più nel momento in cui ovviamente si realizza. E nel contempo, per quello che lei diceva prima, sì è vero, io sono introdotto in Senato ieri, dopo la mia elezione a presidenza del Copasir, avevo preferito mantenere un livello di riservatezza e infatti dopo la mia elezione, che è avvenuta il 9 di giugno dello scorso anno, non ho mai preso la parola né in commissione né in aula, pensando così che potessi meglio assolvere i compiti istituzionali che mi sono stati conferiti. Ieri però, per concessione del mio gruppo, ho preso la parola e ho esposto innanzitutto quelle che sono state le valutazioni del Comitato Parlamentare per la Segurezza della Repubblica in queste settimane, mesi, anni. Perché il Comitato Parlamentare per la Segurezza della Repubblica si era occupato e si è occupato in maniera assidua in questi anni, in questa legislatura, delle tematiche che oggi dobbiamo affrontare. Lo ha fatto sin dalla prima relazione al Parlamento, come sapete il Comitato agisce col vincolo della segretezza, tutte le nostre audizioni, le nostre analiti, le informazioni che riceviamo sono vincolate alla segretezza. Però possiamo decidere di rendere pubblico le nostre decisioni, le nostre comunicazioni, le nostre valutazioni con le votazioni in Comitato. E peraltro i lavori del Comitato sono sempre conclusi alla unanimità, sia nelle precedenti gestioni del Presidente Guerrini e di Volpi, sia durante la mia gestione attuale. Ebbene, il Comitato può anche e deve anche parlare al Parlamento e di conseguenza al Paese e al Governo o con le relazioni annuali, così come il Governo lo fa con la relazione annuale della presenza del Consiglio che viene presentata in ogni febbraio sulla sicurezza nazionale, o con relazioni tematiche. In questa legislatura sono state fatte sei relazioni tematiche, di cui tre negli ultimi sei mesi durante la mia presidenza e una relazione annuale che ho presentato nel mese di febbraio al Parlamento e che riassume un po' l'attività che abbiamo svolto in questi tre anni, soprattutto nell'ultimo anno a cui è dedicata. Ebbene, la prima relazione tematica presentata in Parlamento, quando ero Vice Presidente, il Presidente era l'attuale Ministro della Difesa, Guerrini, è stata, e non a caso, la relazione che riguardava la sicurezza del sistema delle telecomunicazioni 5G presentate in Parlamento, dicevo, nel primo anno di questa legislatura. E' una relazione importante e significativa, sia per quanto quella che chiedeva, per esempio, l'utilizzo della Golden Power nel sistema 5G nelle telecomunicazioni, cosa che poi il Governo ha fatto, estendendo l'attività, o almeno il sistema di protezione della Golden Power, anche al sistema cibernetico, sia il perimetro di sicurezza nazionale che poi è stato realizzato, sia ovviamente l'istituzione di un organismo civile per la resilienza del Paese. Era già tutto questo contenuto nella prima relazione tematica. Cosa che in parte è avvenuto, le nostre indicazioni, nel corso degli mesi, anni successivi, e fortunatamente è accaduto. Devo però anche dire, l'ho detto ieri in Parlamento, che delle relazioni annuali presentate dal Governo o dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza Repubblica, delle relazioni tematiche presentate dal Comitato Parlamentare della Sicurezza Repubblica dal 2007 ad oggi, nessuna è stata mai esaminata in maniera compita dal Parlamento. Perché, senatore, non sono relazioni vincolanti per il Parlamento? Non sono, la legge non prescrive come debbano essere poi, eventualmente. E infatti, non a caso, in questa relazione annuale, quella che ho presentato il 14 febbraio, la premessa delle 120 e più pagine della relazione annuale è proprio questa. La necessità che il Parlamento abbia un percorso definito, portiamo l'esempio della relazione annuale sulla giustizia, in commissione e in aula, così che poi ci sia sempre un dibattito nel Parlamento, una conclusione del dibattito con delle risoluzioni e quindi la consapevolezza di come il sistema della sicurezza debba essere aggiornato, dove fosse necessario, di anno in anno, come accade, ovviamente, tanto più in questo frangente così drammatico. E ieri ho ribadito queste necessità in Parlamento, così come ho fatto notare che in gran parte delle tematiche che dobbiamo affrontare in fase di emergenza erano contenute nella relazione annuale presentata il 14 febbraio e contenute, non a caso, nella relazione che abbiamo consegnato al Parlamento il 14 di gennaio sulla sicurezza energetica del Paese, dopo sei mesi di indagine conoscitiva. Nella relazione sulla sicurezza energetica del Paese si diceva appunto che il Paese era troppo dipendente dalle fonti estere, che era eccessivamente dipendente dalla Russia e occorreva subito realizzare un piano di sicurezza energetica nazionale e anche europeo, che ci affrancasse da questa dipendenza, leggete le ultime righe, nel quadro dell'alleanza occidentale. Dicevamo al Parlamento che vi era questa necessità e che alcune delle misure, peraltro, prese dal governo in decretazione d'urgenza, come il raddoppio della produzione nazionale del gas, piuttosto che l'accelerazione e la sburocratizzazione degli impianti fotovoltaici o aerolici, piuttosto che la necessità di puntare su altre fonti energetiche di produzione nazionale, erano già contenute nella relazione presentata al Parlamento il 14 di gennaio, a conclusione di un'indagine conoscitiva secretata come le altre. Nel contempo, nella relazione annuale presentata, scusate, credo il 9 di febbraio, e nel sintetizzare quello che abbiamo fatto, noi chiedevamo altre indicazioni che riguardavano anche il settore della cyber security, perché è vero che è stata creata. Il giorno dopo la mia elezione, peraltro, al Presidente del COPAS, coincidenza, l'Agenzia per la Cyber Security nazionale, è altrettanto vero che noi abbiamo approvato in via accelerata tutti i regolamenti che ci hanno presentato in pochi giorni, in modo che fosse immediatamente funzionante, perché noi per primi ne siamo consapevoli, ovviamente, se non ne siamo consapevoli noi, chi altro lo debba essere? Dal punto di vista istituzionale, ma è altrettanto vero che noi abbiamo detto che ora bisogna completare il sistema di sicurezza della cyber, completarlo per quanto riguarda sicuramente il perimetro per la sicurezza nazionale, che può individuare altri punti di criticità e porli sotto protezione, completarlo ovviamente con la piena attuazione, con l'assunzione, le gare e i concorsi che già l'Agenzia sta facendo, perché deve essere operativa in tutti i sensi e in maniera più accelerata rispetto a quello che già era previsto. Probabilmente anche da questo punto di vista bisogna accelerare, anche per quanto riguarda il dispiego delle forze dell'Agenzia per la Cyber Security nazionale, e diciamo in quella relazione anche che per completare questo c'è bisogno, certamente, di un cloud nazionale della pubblica amministrazione, e quindi della gara che è in corso, c'è bisogno e certamente una rete a banda larga, meglio di una rete unica a controllo pubblico, lo diciamo nella relazione, e non a caso, per mettere a sicurezza il sistema. Nel contempo, proprio oggi sentivo che è necessario reagire come sistema di difesa europea, e infatti noi abbiamo una relazione, un'indagine conoscitiva che si sta per concludere, guarda caso, sul come, proprio sul sistema di difesa europea e sulle sue ricadute nel sistema di sicurezza nazionale. Indagine conoscitiva già attivata nei mesi scorsi, la stiamo concludendo, qualche anticipazione le abbiamo fatte e l'abbiamo dovuta e voluta fare nella relazione annuale che ho presentato, le conclusioni le abbiamo già in parte anticipate, per esempio quando notavamo, e l'ho detto ieri in Parlamento, che sì è vero che dopo la sciagurata ritirata dell'Afghanistan l'Europa, basta ricordare il discorso della Van der Leyen agli Stati europei in cui sosteneva la necessità di passare a una difesa europea, si era attivata in tal senso, pensiamo alla forza di intervento rapido, ma notavamo già nella relazione annuale ed è l'anticipazione di alcune conclusioni dell'indagine conoscitiva che credo sarà approvata entro il mese di aprile e forse anche prima, dicevamo che sì, questo è vero, però nel contempo ci ritroviamo col fatto che il bilancio europeo sulla difesa è stato quasi dimezzato rispetto al settennato precedente, che non è esattamente corrispondente alla volontà, non dico di oggi, ma di ieri dopo la caduta, o meglio, di Kabul e la retinata afghana, perché si trova un bilancio europeo dimezzato o quasi dimezzato. Nel contempo dicevamo certo una forza di intervento rapido di 5.000 uomini è già un punto di partenza, ma sommessamente diciamo che il dispositivo italiano in missioni internazionali all'estero credo che sia di 9.200 uomini. Cosa sono 5.000 uomini di forza di intervento rapido se solo l'Italia è impegnata in missioni internazionali come dispositivo, poi credo che oggi siano 6.000 o 6.500 quelli realmente impegnati, forse sono aumentati nell'ultime ore, ma il dispositivo c'è qualcosa che evidentemente contrasta tra l'aspirazione e poi la realtà e che sicuramente in queste ore sarà chiaramente l'attenzione, l'idea dell'attenzione dei nostri partner, della Commissione Europea, delle istituzioni europee, anche di quelle dell'Alleanza Atlantica, perché noi siamo tutti consapevoli che bisogna fare in fretta e molto di più. Se è vero che paesi come la Germania, che dal dopoguerra erano ovviamente resti per tanti motivi a investire nella difesa, hanno previsto un programma di investimenti credo 100 miliardi di euro che la porta ad essere uno dei contribuenti maggiori, superando la soglia che noi dobbiamo ancora raggiungere del 2% degli investimenti, delle risorse annue investite nella difesa. Ebbene la difesa, l'indagine conoscitiva, la necessità di realizzare né una difesa europea che sia che complementare, collaterale e di supporto all'Alleanza Atlantica, tanto più nell'area di priorità e di interesse strategico dell'Italia e dell'Europa che ovviamente il nostro continente è il Mediterraneo allargato. E in questo contesto nella relazione annuale notavamo, e l'ho ribadito ieri in Parlamento, come evidenziavamo al Parlamento, al Paese, la postura aggressiva della Russia. I termini usati sono questi. La postura aggressiva della Russia. E come l'abbiamo evidenziata? L'abbiamo evidenziata notando sostanzialmente alcuni aspetti dell'atteggiamento russo negli ultimi dieci anni. Che portano a evidenziare come la Russia abbia investito sulle sue due armi, l'energia, le materie prime e le forze armate. E lo abbia fatto con una volontà di potenza che emergeva già negli atti che si compievano in Europa, in Africa innanzitutto. Abbiamo evidenziato come. In Bielorussia stava per svolgersi un referendum che avrebbe cancellato la neutralità del Paese consentendo il dislocamento di armi nucleari. Per capirci. La Russia oggi dice che ha invaso l'Ucraina perché l'Ucraina non voleva essere neutrale. E chiede che sia neutrale. E nel contempo ha cancellato la neutralità della Bielorussia. Cosa è avvenuta con il referendum di domenica scorsa, programmato da mesi. Affinché la Bielorussia potesse consentire, ha consentito, che ci fossero armate russe con la dotazione nucleare. Scusatemi, qua non capisco. Ci sono due Paesi neutrali. La Bielorussia, o almeno che erano tali, e l'Ucraina. L'Ucraina viene invasa perché dovrebbe essere costretta la sua neutralità mentre vorrebbe un percorso europeo. E la Bielorussia viene annessa al sistema militare di potenza russo. Se non è questa una postura aggressiva vorrei capire meglio. Nel contempo notavamo come operazioni militari congiunte russe si siano svolte per esempio nei paesi limitrofi, vicino all'Afghanistan. Paesi che prima si sentivano protetti dall'ombrello della Nato e scoperti dalla Nato si sono rifugiati sotto l'ombrello russo. E nel contempo notavamo che dopo il fallito golpe in Montenegro del 2016, un tribunale del Montenegro ha accertato che dietro c'erano degli emissari probabilmente russi, così che poi Montenegro ha aderito all'Alleanza Atlantica del 2017. Quel golpe doveva impedire eventualmente, così sembrerebbe, l'adesione. Notavamo che negli ultimi settimane, o meglio negli ultimi mesi, si è accentuata una posizione intransigente e direi divaricante nella Bosnia Erzegovina come azione della leader o dei leader della Bosnia Serbica. Eppure lì c'è stata una guerra civile devastante. Come mai negli ultimi mesi i leader della Bosnia Serbica hanno cominciato a simulare una postura del tipo che potrebbe presuppore che vogliono creare altri conflitti interni? E così in Kosovo, e così in altre aree dei Balcani. Notavamo che dopo il raffortamento del dispositivo militare in Siria della Russia, dove è stata sempre presente con basi militari, c'è stata l'azione del mercenario della Wagner nella Cirenaica, che prima ovviamente era sotto, se vogliamo, influenza diversa. E notavamo come negli ultimi mesi si siano realizzati sei golpi militari in cinque paesi, di cui in quattro paesi, del Sahel, due dei quali nel frattempo, dopo il cambio militare, hanno chiesto soccorso ai mercenari della Wagner. Ma che cos'è il Sahel? Il Sahel è il luogo, è la frontiera reale del Mediterraneo allargato e quindi la frontiera esterna del nostro continente e anche, non a caso, il luogo in cui ci sono giacimenti importantissimi di quelle terre rare, di quelle minerali preziosi, che servono e che sono indispensabili alla transizione ecologica, cioè all'affrancamento dal gas russo. Questo è una postura aggressiva che accerchia l'Europa. Concludo sulla cyber security, perché questo è un meeting sulla cyber security, ebbene, credo che sia importante, e concludo che sia l'Italia partecipe a questa azione europea e dell'Alleanza Atlantica per migliorare la propria tutela, e vi annuncio che prima ancora dell'indagine conoscitiva delle relazioni sulla difesa, sarà presentata al Parlamento un'altra indagine conoscitiva, lungimirante, sulla geopolitica dello spazio, che ormai stiamo concludendo. Ieri è stata la penultima audizione. Spazio e cyber security, spazio e cyber, sono ormai a tutti gli effetti domini bellici. Lo spazio e poi la cyber sono stati inseriti tra i domini bellici dell'Alleanza Atlantica, cioè sono considerati elementi fondamentali della difesa dell'Occidente. E un attacco sullo spazio, ovviamente, interspaziale, o un attacco cyber, è paragonata a un attacco di terra, di mare, di cielo, anche per quanto riguarda la reazione dell'Alleanza Atlantica, dove si trovassero ovviamente le fondi dell'attacco. E notavamo che il paese che è più attrezzato sulla guerra cibernetica, guarda caso, è proprio la Russia. Un altro elemento che ci faceva capire che la postura aggressiva presupponeva, o meglio al dietro, una scelta di potenza imperiale. A questo le volevo chiedere, come difenderci allora da questa postura aggressiva della Russia anche sul versante cyber? Appunto, migliorando la protezione del paese, la resilienza attraverso l'agenzia. Io mi auguro che i progetti anche di costituzione dell'agenzia, credo che il sottosegretario che presente ne saprà più di me, ma da qui a fine anno dovrebbero arrivare a 300 persone. L'agenzia l'abbiamo costituita con circa dieci anni di ritardo rispetto alla Germania e alla Francia, non dico rispetto a altri paesi, ma rispetto alla Germania e alla Francia. Con dieci anni di ritardo dobbiamo recuperare forse un'accelerazione della sua costituzione, anche per quanto riguarda le risorse finanziarie impiegate, penso che il paese comprenda che sia necessario. Così come, dicevo, per quanto riguarda il Claudio nazionale sulla pubblica amministrazione, nelle nostre audizioni, per esempio, pubbliche al Parlamento, il ministro Colau, che tra l'altro l'ho detto anche esternamente, già qualche settimana fa diceva che il 95% delle nostre pubbliche amministrazioni non ha sistemi di sicurezza adeguati. Ovviamente l'agenzia sta intervenendo per dare le informazioni giuste e consentire che tutto sia recuperato nel tempo dovuto, nel tempo necessario, sull'incalzare degli avvenimenti. Ma io penso che questi progetti che riguardano il Claudio nazionale, l'eventuale estensione del perimetro di sicurezza nazionale e certamente anche la rete unica a controllo pubblico siano accelerati. Non abbiamo tempo da perdere. In questo contesto c'è anche la reazione comune europea atlantica e quello riguarda la difesa. Come sapete l'agenzia riguarda l'attività civile, la resilienza, il rapporto con le imprese, la pubblica amministrazione e quant'altro, ma c'è anche l'aspetto dell'intelligence che rimane in capo all'intelligence, l'aspetto della difesa che rimane in capo alla difesa è oggi più importante che mai, così come c'è l'aspetto ovviamente della polizia criminale che riguarda in capo alla polizia postale. Da questo punto di vista già nella relazione iniziale di tre anni fa individuiamo la necessità che ci fossero dei fatti specie di reato specifici. Sia per quanto riguarda eventuali reati a fine di estorsione, non basta che sia la truffa informatica, sia per quanto riguarda eventuali reati a fine di terrorismo. E questo oggi va adeguato anche al sistema legislativo, perché è molto più pericoloso un attacco cyber fini terroristici o un attacco cyber statuale che punti per esempio a paralizzare il sistema sanitario di un paese. E come va perseguito questo? Non solo per quanto riguarda la reazione, ma anche per quanto riguarda il perseguimento di reati di cittadini o comunque di residenti in Italia o di chiunque esso sia, che si fanno complici o attori di reati gravissimi come questo. Ecco perché è necessario anche adeguare. E questo riguarda ovviamente anche il sistema dello spazio. Tra l'altro nel programma europeo era previsto un intervento specifico per un piano strategico europeo sullo spazio, credo con riunioni che sono decisive nel mese di marzo, così come appunto quelli che riguardano lo strategico compass, che cioè la difesa europea. Ora bisogna lavorare velocemente, lo faremo anche noi come comitato per dare le nostre indicazioni, ma anche il Parlamento. Per questo ieri sollecitavo quello che avevo già scritto nella conclusione di quella relazione annuale, l'assoluta necessità che il Parlamento faccia una sessione sulla sicurezza nazionale. E la sicurezza nazionale non è soltanto ormai la difesa, non è soltanto la difesa cyber, non è soltanto la difesa sullo spazio, la sicurezza nazionale riguarda anche l'attività sociale e produttiva del nostro Paese e quindi la sicurezza energetica e quindi la sicurezza digitale e quindi gli investimenti nelle filiere industriali. È tutto un sistema perché la guerra ibrida che i sistemi autoritari stanno comunque realizzando per il predominio globale riguarda anche settori sociali, economici e produttivi, riguarda persino le università che è la collaborazione scientifica e tecnologica di cui oggi dobbiamo renderci conto, perché gli altri lo stanno facendo. E concludo, è vero che la resistenza ucraina, che nessuno aveva mai previsto così significativa, abbiamo visto le ragazze che realizzano le bombe Molotov nei parchi, i giovani che non hanno mai fatto il servizio militare imbracciare un fucile, gli operai anziani scravare le trincee, chi mai immaginava questo nel nostro continente europeo? Non l'immaginavano soprattutto loro, coloro che hanno contotto l'invasione aggressiva, pensavano che tutto finisse con la popolazione in piazza che agitava sulle bandiere russe accogliendo l'esercito liberatore. Si ritrovano con un popolo che parla russo, che invece cerca di bloccare i cararmati con la loro fisicità. Questo è un monito per chiunque nel mondo, in Europa, in Asia, ovunque, pensi che sia possibile far tornare indietro l'oroggio della storia per quanto riguarda i diritti delle libertà dei cittadini, dei popoli, dell'umanità. Non accadrà. Grazie a tutti.